Quest'anno il comitato di Gibilgabib ha deciso di non organizzare la consueta festa di San Martino che da 18 anni puntualmente promuove il sito archeologico omonimo e il suo antiquarium. A motivare la scelta lo stesso comitato in una nota. Non possiamo permettere che una giornata di svago e conoscenza del patrimonio archeologico e culturale della nostra città si trasformi in una giornata di disagio per gli studenti che annualmente ci hanno incoraggiato con la loro massiccia presenza. Percorrere una strada dissestata con 1,2 km interessati da lavoro di consolidamento per una frana fermi da oltre tre mesi non è certamente il presupposto per fare trascorrere una giornata di svago ai numerosi visitatori. Così come un ulteriore disagio è costituito dalla manganza di servizi igienici e acqua nell'antiquarium, punto d'incontro della manifestazione. Né tantomeno possiamo chiedere aiuto a qualche residente vicino perché sono alle prese con gravi problemi di approvvigionamento di acqua.